Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Giornata di esodi e stivi che portano disagi alla circolazione sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Scandici e Barberino e in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Ralentamenti anche sulla variante di Valico in entrambe le direzioni tra il Bivio A1 variante e Badia. Sulla A12 per traffico intenso invece code in uscita alla barriera di Rosignano in direzione Sud e code a tratti tra l'allacciamento per la statale 1 Aurelia e Rosignano in direzione Genova. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Prunita. Oversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!